Augusto De Sanctis, sono arrivate le prime richieste di risarcimento di Terna verso i proprietari dei terreni espropriati? Terna è un gigante dai piedi d'algilla perché se la prende con i cittadini per non rispondere e cercare di distrarre l'opinione pubblica dalle gravissime criticità che ha quest'opera, un'opera inutile costruita per oltre un terzo su aree a rischio idrogeologico, cioè i piloni sono su aree franose, addirittura quattro sostegni sono in zone a frane attive e questo non basta perché ci sono altre criticità sia rispetto alla conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, sono cambiate le altezze, sono cambiate le tipologie dei tralici, tanto è vero che neanche il Corpo Forester dello Stato lo ha rilevato, gli enti pubblici soprattutto la regione Abruzzo è in silenzio, è inerme rispetto a un'opera, ripeto, inutile per gli abruzzesi, però dobbiamo sopportarne i costi ambientali, paesaggistici e in questo caso addirittura sociali. Vogliamo continuare a parlare delle criticità che quest'opera ha, che attraverserà tutto il territorio della provincia di Pescara e di Chieti con sostegni altri 70 metri che, ripeto, non sono di utilità per i servizi ai cittadini, anzi forse invece di spendere centinaia di milioni di euro che vengono dalle bollette di cittadini italiani, perché quest'opera è finanziata tramite le bollette, Terna forse dovrebbe pensare a prevenire i blackout manutenendo correttamente la rete esistente, dove invece si spendono pochissimi soldi.